Musica Samuele Mascarin, io nominato assessore al Comune di Fano con una delega importante come quella sulla legalità, presente alla consegna del braceletto bianco e anche incaricato in qualche modo a dare attuazione agli impegni assunti. Come interpreta questa sua delega alla legalità? Quali saranno nel concreto le azioni? Intanto c'è un valore in dubbio di carattere simbolico perché si vuole dare un segnale chiaro alla comunità, alla città, che il tema della legalità, della legalità democratica ma anche come ci ricordava Don Ciotti pochi giorni fa della responsabilità rispetto agli impegni che gli amministratori hanno nei confronti della propria comunità è un segnale per dire che in questa città proviamo a costruire una narrazione nuova e anche coerente con una serie di valori che in questi anni fortunatamente tanti soggetti collettivi e individuali della società civile nella nostra città hanno portato avanti e hanno fatto vivere e hanno contaminato fortunatamente, dico io, anche la cultura politica della nostra città. Poi ovviamente ci sono degli impegni concreti, non è una delega che si riduce a qualche enunciazione di principio e quindi innanzitutto un impegno per la partecipazione e per la trasparenza rispetto all'attività amministrativa in senso generale e in particolare poi sui temi che riguardano il contrasto alla corruzione e il futuro di quelli che sono i beni confiscati dalla criminalità organizzata. Nella nostra città ci sono 5 beni immobili sugli 11 presenti oggi e censiti dal Ministero dell'Interno nel territorio provinciale. Nei prossimi anni si porrà il tema di quale riutilizzo di questi beni e noi vogliamo fare in modo che questa scelta non sia solo una scelta più o meno illuminata degli amministratori ma sia una scelta condivisa, partecipata da parte di tutta la comunità. Lei è anche assessore, forse la delega più importante che è, quella dei servizi educativi, quindi sicuramente le due deleghe dovranno in qualche modo dialogare anche perché la lotta, l'illegalità o comunque un certo modo di fare nasce sicuramente a partire dalle giovani generazioni. Assolutamente sì, può sembrare banale ricordarlo ma non lo è. Quando parliamo di legalità democratica noi usiamo sempre l'espressione cultura della legalità democratica, cioè c'è anche un aspetto pedagogico in qualche modo che riguarda l'avviare soprattutto i più giovani a una cultura del civismo, della legalità, della responsabilità che ovviamente nasce dai principali spazi di socializzazione, di crescita e di formazione che sono le istituzioni scolastiche. In questo senso credo che nei prossimi anni sicuramente le sinergie tra mondo dell'istruzione, mondo dell'educazione e quel vario mondo del impegnato nell'antimafia sociale avranno la necessità e molte occasioni di incontrarsi e di collaborare proprio perché in realtà gli obiettivi sono assolutamente convergenti. Dentro un concetto ampio come quello dell'educazione entra dal mio punto di vista pienamente anche l'educazione e la legalità. Bene, la ringraziamo, buon lavoro. Buon lavoro.